Ciao amiche e ciao amici, quali sono i messaggi attraenti e seducenti da inviare agli uomini? Allora, se vuoi inviare un messaggio attraente e seducente, che sia in grado di coinvolgerlo, devi usare dei messaggi ambigui, perché i messaggi chiari, palesi, non stimolano emotività, non stimolano coinvolgimento, non stimolano proiezioni. Invece se mandi un messaggio ambiguo, genera subito coinvolgimento, perché la persona inizia a pensarci. Soltanto per il fatto che la cosa non è palese, non è chiara, spinge la persona, l'uomo in questo caso, a pensare al motivo per cui tu hai mandato quel messaggio. E allora questo genera un fenomeno proiettivo, e più proietta, più tenda a coinvolgersi, perché inizia a pensare a te. Quindi è fondamentale imparare a mandare dei messaggi non ben definiti. Ad esempio, non lo so, una frase del tipo Mi piacerebbe amarti, puntini puntini, anche se, puntini puntini. Oppure, mi piacerebbe uscire una volta con te, anche se, puntini puntini. In questo modo la persona non riesce a cogliere esattamente qual è il significato. E quindi inizia a rimuginare sopra, in qualche modo. In qualche modo sta iniziando a introiettare, quindi sta iniziando a diventare un simbolo. In più, si può usare una sottolineatura per analogia. Sottolineare per analogia vuol dire che alcune parole devi evidenziarle rispetto alle altre, mettendole magari in maiuscolo, oppure mettendo un punto esclamativo, mettendo qualcosa che possa evidenziare quella parola rispetto alle altre. Perché se tu ne metti diverse di queste parole, la persona inizia, diciamo, emotivamente a dare un significato diverso. Quelle parole, la parte logica non si accorge di niente. Ad esempio, non lo so, inizia una frase mettendo tu, maiuscolo, poi scrivi altre cose, poi metti un devi, dopo, che non c'entra niente, che non so, devi andare al mare per dire. E poi metti un amare, anziché amare la montagna, amare maiuscolo, e poi alla fine metti un me. Quindi quello che risulta, alla fine, per la parte emotiva è un ordine. Tu devi amare me. La parte logica non se ne accorge perché sono, diciamo, sparse queste parole. La tecnica si chiama di disseminazione. Ed è molto utile perché, diciamo, inserita dentro un messaggio. Ovviamente devi mandare un messaggio un po' lungo, perché ovviamente se il messaggio è breve, le parole risultano troppo ravvicinate e c'è il rischio che anche la parte logica se ne accorga. Questa tecnica di disseminazione puoi usarla anche usando magari una volta una frase maiuscola, una parola maiuscola, un'altra volta virgolettata, un'altra volta in corsivo, per dire. Ci sono diverse modalità. Non è detto che devi sempre usare la stessa modalità. E comunque sono molto utili perché fanno passare dei messaggi direttamente alla parte emotiva che tende ad agire questi messaggi. Quindi è quasi come se fossero un comando ipnotico, fondamentalmente. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!